Bene, allora inviterei gli ospiti a recuperare una sedia, sapendo che siamo noi in riprorevole ritardo, visto la fascellarsi dei contenuti di stamane, però credo che ci sia stata tanta ricchezza, sia come dire di energie positive, sia anche di contenuti veri e propri. Io sono Alberto Navarra, sono responsabile insieme a Luca Baroldi dell'area del Career Services che questi strani consulenti hanno nominato così, di fatto è la consulenza in Italia per le risorse umane e l'organizzazione di Mercer. Poi dopo con Luca parleremo delle vostre domande, cercheremo di darci delle risposte, un po' la marzullo, faremo una cosa un po' più simpatica, un po' anche perché l'orario lo richiede, anche voi lo richiedete. Però adesso vi presento qualcosa che aspettavo io da stamane, non perché gli interventi di stamane non fossero interessanti, ma perché credo che per guardare avanti abbiamo bisogno di persone che guardano nel futuro, non stiamo facendo un corso di astrologia, lo premetto per tutti, ma invece il professor Poli che ringrazio a nome di Mercer Italia e del nostro leadership team ci racconterà un po' quali sono i cosiddetti shifting landscape, cioè come stanno cambiando gli scenari nel futuro. Io ho il telefono in mano perché mi sono anche segnato il title del professore che è un po' complicato, quindi cercherò di non sbagliarlo, professore non me ne voglia. Sicuramente il professore è chairman della cattedra di anticipatory systems all'università di Trento, nonché presidente del master in social foresight, sempre della stessa università. Non rubo altro tempo al professor Poli e ancora grazie per quello che ci mostrerà. Grazie a voi per l'invito. Quasi tutti gli interventi di questa mattina contenevano un'interessante tensione fra un interesse per il futuro, che era presente esplicitamente in quasi tutti gli interventi che ci sono stati e l'affermazione che non si può prevedere il futuro, ripetuta più e più volte. Da futurista quale io sono, ovvero da professionista del futuro, credo che questa tensione sia essenzialmente errata. Per fortuna che non si può prevedere il futuro, perché se lo si potesse prevedere in alcun senso autentico del termine vorrebbe dire che è già stato deciso e la cosa forse non sarebbe di grande interesse. Casomai il problema non è tanto prevedere il futuro, perché il futuro dipenderà anche dalle cose che faremo noi, per esempio, oltre che da quelle che faranno i vari players che ci sono in circolazione, quanto eventualmente l'imparare a lavorare con il futuro. Trasformare il futuro da questa specie di parola strana che non si capisse bene che cosa voglia dire, in uno strumento operativo di lavoro all'interno delle aziende, all'interno delle istituzioni, all'interno delle comunità. Oggi vi darò tre esempi, sarò inevitabilmente super veloce. Voglio solo richiamare la vostra attenzione su alcune delle caratteristiche del frame of mind, dell'attitudine mentale, della postura strategica che adottano i futuristi. Vi parlerò di megatrends, di incertezza e di un nuovo potere che potrebbe essere interessante considerare. Qual è il problema dei megatrends? Siamo ovviamente in una situazione in cui ci sono enormi cambiamenti attorno a noi. Sto dicendo una grande sciapità, lo sappiamo tutti, non è niente di particolare. Il problema è che non tutti i cambiamenti sono uguali. Alcuni sono più pesanti di altri. Alcuni hanno la caratteristica di essere cambiamenti che durano da molto tempo e che promettono di durare ancora a lungo e che sono tali per le loro dimensioni, per le loro caratteristiche, da fungere da scheletro di qualunque futuro noi si possa pensare. E quindi sono quelle situazioni con cui, che ci piaccia o che non ci piaccia, dovremmo fare i conti. La demografia, il problema dell'energia, la geopolitica. Sto facendo esempi che sembrano banali, ma cominciamo con la demografia, che sarà l'unico di cui parlerò oggi. Novembre 2022. 8 miliardi di persone sulla Terra. Questo è un risultato che raggiungeremo la settimana prossima. 8 miliardi di persone. 1950 eravamo 2 miliardi e mezzo. Quindi in 70 anni c'è stato un salto mostruo. Perché come sappiamo le persone hanno dei difetti incredibili. Hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di vestirsi, magari di andare a scuola, di avere una casa, di avere un lavoro. 8 miliardi di persone sono già un primo problema con cui imparare a dover fare i conti. Continuiamo ad aumentare. Per fortuna con una velocità molto inferiore a quella che c'è stata negli ultimi 70 anni, le previsioni delle Nazioni Unite ci dicono che arriveremo a poco più di 10 miliardi verso il 2080, grossomodo. Ci sono altri un paio di miliardi abbondanti che bisogna aggiungere alla situazione. Questa è una dimensione oggettiva con cui, volenti o non volenti, è importante fare i conti. Vi do solo un microscopico esempio. Ovviamente non ho il tempo di entrare in un'analisi di dati minimamente precisa, ma almeno a livello di Flevord, di prima impressione. Ci sono sempre dati delle Nazioni Unite all'inizio dell'anno, quindi inizio 22 eravamo quasi 8 miliardi, adesso ci siamo arrivati. Nel 2050, che sembra lontano, poi è una generazione, non è tanto in più. Saremo vicini ai 10 miliardi. La cosa interessante è quando vediamo questi dati scomposti per base regionale. Allora troviamo una novità piuttosto interessante con cui fare i conti. Una situazione di sostanziale stabilità in tutti i continenti con una singola eccezione. La popolazione africana ci si aspetta che raddoppi nel giro di 30 anni. Tirate le conclusioni che volete, però qua c'è un problemino che forse bisogna incominciare ad affrontare. Qual è il problema? Perché in Africa sì e in altri paesi no, perché in Africa non c'è ancora stata la transizione demografica. Cos'è la transizione demografica? Il passaggio da 6, 7, 8, 9 figli per donna a 1, 2 figli per donna. Quella che noi abbiamo avuto alla fine dell'ottocento fondamentalmente. Cosa fare? Beh, una delle poche cose che hanno capito i sociologi, non sono molte, io sono sociologo quindi posso parlare anche male dei miei colleghi, una delle poche cose che hanno capito è che uno dei fattori più importanti per indurre la transizione demografica è mandare le ragazze a scuola. Chi l'ha capito meglio nel nostro mondo sono i talebani che per poter difendere una cultura molto antica e particolare si rifiutano di mandare le ragazze a scuola. Ora, i maestri sono sottopagati in tutto il mondo. Costruire scuole e mandare ragazze a scuola non è un intervento particolarmente costoso, è una cosa che forse possiamo anche provare a contribuire a che venga realizzata. Costa molto meno che costruire autostrade. quello che voglio dire è convenienza nostra di europei e convenienza nostra di italiani dare una mano che si realizzi la transizione demografica in Africa. Oltretutto mandare le ragazze a scuola è un qualcosa di umanamente rispettoso, non è come la sterilizzazione forzata come è stata fatta in India negli anni 50 ad esempio, che anche quello era un modo per provare a risolvere una certa che non ha dato grandi risultati fra il resto. Allora, qual è il tipo di ragionamento che mi interessa far capire, guardare avanti per poi capire cosa fare, guardare avanti per poi prendere decisioni. Questa è la postura fondamentale che abbiamo come futuristi. Qualche altro dato, sarò molto molto veloce. Questo riguarda l'Europa, proiezioni Eurostat, quindi proiezioni ufficiali europee, ci raccontano una storia di sostanziale stabilità dei grandi paesi europei. Germania sono 83 milioni, saranno 83 milioni a fine secolo, più stabili di così. Francia sono 67 milioni al 2019, saranno 69 a fine secolo, un pochino di aumento ma neanche tanto. Spagna 46, quasi 47, saranno 45, un po' di diminuzione ma neanche tanto. Italia da 60 milioni a 51. Siamo l'unico paese europeo, uno grande paese europeo, per cui ci si aspetta una importante diminuzione della popolazione. Uno potrebbe dire che bello, avremo più spazio, saremo meno affollati. Ma 51 milioni rispetto a 60 vuole anche dire un mercato interno più piccolo. E magari qualcuno si ricorda che abbiamo anche un debito da qualche parte che tanto poco bisogna. Ecco, una popolazione significativamente minore sarà in grado di produrre la ricchezza necessaria per far fronte, eccetera. Punto di domanda, direi molto grande. Ma la cosa diventa ancora più interessante. Qua non vi chiedo di leggere i numeri, però la presentazione è a disposizione di chi la vuole. Questi sono dati ISTAT, quindi del nostro Ufficio Statistico Nazionale, che fondamentalmente ci dicono una cosa. Quei nove milioni che mancano nel giro di alcuni decenni sono praticamente tutti in carico al sud e alle isole. Questo è un problema. Questo è un problema molto, ma molto serio. Vuol dire non solo che riprendono flussi migratori importanti del sud verso altre parti del paese e altri paesi, vuole anche dire che chi rimarrà al sud sono gli anziani e i giovani meno qualificati. Cioè, vuol dire un aumento delle differenze fra nord e sud. Per farla molto breve e per richiamare la vostra attenzione, io ci vedo una frattura del paese. Impensabile, ma è già successo in Cicoslovacchia. Già in Europa è successo un paese che si è diviso in due perché non ha avuto il modo, la capacità, le forme di trovare un dialogo adeguato fra le sue diverse parti. Noi stiamo andando in una direzione molto simile. Io non ho la ricetta in tasca e anche se ce l'avessi non la direi sarebbe millantare credito. Quello che voglio dire è forse conviene parlarne. Forse è un qualcosa su cui potrebbe valer la pena richiamare l'attenzione perché il bello dei dati demografici è che ci permettano di vedere qualcosa su distanze temporali importanti, ma non è quello il punto. È che mi danno l'occasione di fare qualcosa. Se vedo che c'è una certa direzione verso cui sto andando, se mi fa piacere non ho niente da fare, va bene, ma se per caso vedo che allude a un possibile problema, posso almeno provare a cambiare qualcosa. Magari non ci riesco, ma almeno mi mettono nelle condizioni di poter provare. I cambiamenti attorno a noi sono tanti, lo dicevo fin dall'inizio, però dire che viviamo in una fase di cambiamenti, anche di cambiamenti importanti, non vuol dire niente. Siete tutti persone colte. Provate a pensare, siete in grado di trovare un periodo nella storia dell'umanità in cui non ci siano stati cambiamenti. I cambiamenti sono la norma. Certo ci sono stati i periodi un pochino più sonnolenti, dei periodi un po' più vivaci, d'accordo, ma i cambiamenti ci sono sempre stati. Quindi non è questo quello che eventualmente caratterizza il nostro periodo storico. Sono eventualmente altre due componenti. La prima è quella della accelerazione. I cambiamenti sono sempre più veloci. Questo è quell'elemento che mette in crisi tutti. Dalla signora Maria della strada al più elevato decision maker. È la velocità dei cambiamenti che supera la nostra capacità di metabolizzazione. E questo apre un problema su cui torno fra un attimo. Il secondo elemento è che alcuni, molti in realtà, di questi cambiamenti hanno una dimensione che è nuova. Cioè sono talmente grossi, talmente grandi, talmente importanti che vanno al di là di quello che siamo abituati a gestire. Facevo all'inizio l'esempio 8 miliardi di persone con tutto quello che ne consegue. Potrei anche dire invecchiamento della popolazione. Ok beh, nessuno vuole andarsi da giovane, ovviamente. Però invecchiamento della popolazione, cosa vuol dire in Italia? Dobbiamo essere molto concreti. 2050, sempre 30 anni, una generazione. Una persona su 7 over 80. Una persona su 7 over 80. Stiamo andando verso una società geriatrica. Non è un termine mio, sfortunatamente, è un termine Nazioni Unite, ma al di là di chi l'abbia usato per la prima volta, nessuno sa come gestire una realtà di questo tipo. Ed è un qualcosa in cui serve adottare una specifica ottica, un'ottica sperimentale. Bisogna provare per capire cosa funziona e cosa non funziona. Perché magari quello che funziona a Trento non funziona a Perugia o non funziona a Enna. Perché? Perché ci sono popolazioni con attitudini diverse, ci sono culture, modi di fare, funzionamenti delle istituzioni che sono diverse. Quindi bisogna trovare quello che funziona nelle singole realtà. Abbiamo trent'anni. Non succederà domani. Però come prima vogliamo incominciare a parlarne. Vogliamo incominciare a discuterne. Vogliamo incominciare a dire potrebbe servire fare questo e quello. L'accelerazione dei cambiamenti genera, e qua tocco il secondo punto fondamentale, genera elevati livelli di incertezza. Va bene, è ovvio. Le cose cambiano sempre più velocemente, non si capisce più che cosa sta succedendo. Primo punto, io non considero l'incertezza un nemico. Non considero l'incertezza un nemico. Fate questo ragionamento mentale per un attimo. Provate a pensare a un mondo completamente certo. Siete sicuri di voler vivere in un mondo simile? Io non vorrei trovarmi in un mondo del genere. Un mondo completamente certo è un mondo in cui qualcuno o magari qualcosa, visto che stiamo parlando tanto di tecnologie, ha già deciso le cose fondamentali. Anche no, grazie. Non preferisco andare altrove. Quindi incertezza a un primo livello vuol dire avere degli spazi di manovra. Vuol dire poter tentare le proprie carte. Magari anche poter perdere. È parte del gioco. Ma almeno poter provare a fare qualcosa. Quindi il problema non è l'incertezza in quanto tale. Il problema è quando l'incertezza diventa talmente elevato da superare le mie capacità di metabolizzazione. Quando supera gli strumenti che ho a mia disposizione. Ma se la vedo in questo modo posso anche fare qualcosa. Posso anche sviluppare dei programmi che mi aiutino io come individuo, io come organizzazione, io come azienda. È esattamente lo stesso discorso che mi aiutino a sviluppare le competenze, gli skills, le abilità per gestire situazioni che man mano che andremo avanti diventeranno eventualmente ancora più incerte di quanto non sia. Ma abbiamo trasformato, ragionando in questo modo, qualcosa che sembra del tutto al di fuori delle nostre competenze, semplicemente delle possibilità di azione, in qualcosa rispetto a cui invece possiamo provare a fare qualcosa. per sviluppare gli skills, le competenze, per rimanere attivi nonostante il fatto che i livelli di incertezza continuino ad aumentare. Ci aggiungo un aspetto per rendere la cosa ancora più chiara. Lo dico usando una frase che a prima vista suonera strana. Le informazioni che vengono dal passato, questa è la frase strana ovviamente, ma poi la spiego, non sono più sufficienti per dirci cosa fare. Però questa frase strana la si può tradurre in la nostra esperienza. La nostra esperienza è qualcosa di prezioso, nessuno vuole fare a meno della sua esperienza, è quello che è come persona, come individuo, come manager. Ecco, ecco, la nostra esperienza non è più in grado di dirci che cosa, perché, ma per le ragioni che dicevo prima. Perché alcuni dei problemi che sono in maturazione sono unprecedented, hanno delle dimensioni che non si sono mai viste prima. Quindi i modi tradizionali di affrontarli, per dirle in maniera molto morbida, non è detto che funzioni, no, ma l'ho detta in maniera molto morbida. probabilmente serviranno altri modi per gestire le cose. Quindi bisogna mettersi anche nell'ottica di inventare strumenti adeguati a problematiche che da una parte sono in accelerazione, sempre più intensa, quindi che cambiano sottomano man mano che uno prova a lavorarci e che contemporaneamente hanno delle dimensioni, cioè sono fuori scala rispetto al tipo di problemi che siamo abituati a gestire. Quindi le informazioni che vengono dal passato non sono più sufficienti. Cosa fare? Qua è perché ho usato questa formula strana, informazioni che vengono dal passato. Quello che ci serve per decidere è imparare, per così dire, a far parlare il futuro. A scoprire qualcosa dai futuri possibili che abbiamo davanti a noi. È come se stessi dicendo io che adesso devo prendere delle decisioni? Ovviamente uso le informazioni accumulate, ovviamente uso la mia esperienza, ovviamente faccio riferimento a quello che ho capito finora e al tipo di esperienza e ci mancherebbe altro, anche volendo non potrei farne a meno. Ma contemporaneamente ho bisogno di aggiungere altra informazione, proprio perché l'informazione che viene dal passato non è più sufficiente per darci indicazioni strategiche affidabili. Ho bisogno di imparare a fare fondamentalmente esercizi di futuro. Qui è dove sono nati gli studi di futuro, negli anni 50. Sto parlando di una cosa che in realtà ha già oltre 70 anni di vita alle spalle. Sono nati in un ambiente militare inizialmente per ovvie ragioni perché per primi si sono trovati ad affrontare situazioni del tutto inedite ma poi sono usciti e sono per così dire diventati civili con il continuo essere molto presenti anche nel mondo militare. Quello che sto dicendo che può sembrare un po' strano in realtà è stato già ampiamente sdoganato qua, si si vede meglio, qua si vede male, a livello di grandi istituzioni internazionali. Quanti di voi sanno che abbiamo un vicepresidente della Commissione europea incaricato dello Strategic Foresight, che è il loro modo per dire studi di futuro? Abbiamo un vicepresidente, cioè un commissario europeo, Maros Sefcovic, che per la prima volta nella storia, cioè quando è andata, ha avuto l'incarico Ursula von der Leyen, ha avuto l'esplicito incarico di aiutare la Commissione a lavorare non solo sui problemi per così dire di breve respiro, è ovvio se c'è una crisi va affrontata e ci mancherebbe altro, ma aiutare la Commissione a fare anche lavori di lungo periodo. L'Ocse sta lavorando massicciamente in questa direzione. Il Fondo Monetario Internazionale dal 2012 sta facendo gioco, ha una unità specializzata in giochi di futuro. Io non so cosa voi pensate del Fondo Monetario Internazionale, ma immagino, pensiate che non siano dei zuzzerelloni che non avendo niente di meglio da fare si mettono a fare dei giochini. Ecco, qualche volta magari è vero, d'accordo, però diciamo un'attitudine di serietà. Di solito ce l'hanno. Ecco, il fatto stesso che abbiano un'unità specializzata in queste cose, la dice lunga, o l'Interpol, la Croce Rossa, cioè istituzioni molto diverse fra di loro, tutti loro hanno unità dedicate che si occupano di futuro, che nella loro dizione normale è strategic foresight. Attenzione, foresight non forecasting. Questa è una differenza assolutamente micidiale. Cos'è il forecasting? Raccolta dati e loro estrapolazione. Questo lo fanno tutti da sempre. Non è di questo che stiamo parlando. Stiamo parlando di altre competenze con altre caratteristiche. La raccolta dati e la relativa estrapolazione è qualcosa che davanti a un mondo che cambia sempre più velocemente può anche essere pericolosa. Perché come funziona il forecasting? Raccolgo dati sull'ieri e li proietto sul domani. Di fatto sto dicendo domani sarà come ieri. Cioè annullo i cambiamenti. Se abbiamo capito qualcosa di quello che abbiamo davanti a noi è che domani sarà un'altra storia, no? Che domani sarà come ieri. Quindi il forecasting funziona bene, ha un'ottima tecnica matematica, molto sofisticato, niente da dire, lo usiamo anche noi ovviamente, ma quando ci sono situazioni sufficientemente stabili, quando invece ci si aspetta che ci siano cambiamenti importanti servono altre tecniche. Quelle del foresight che possiamo in primissima battuta ma molto molto velocemente intendere come delle tecniche che ci aiutano a rendere visibili una serie di futuri possibili. Cioè i diversi modi in cui le cose possono andare. In modo da anticipare le cose. La faccio molto molto veloce. Abbiamo anche un network dei ministri del futuro. Immagino che nessuno non abbia mai sentito parlare. L'Italia fa parte di questo network. Per dire, ci sono tante cose che succedono a livello istituzionale. Ci sono molte aziende che lavorano in questo settore. Visto che mi rimangono solo cinque minuti, tocco velocemente l'ultimo punto che volevo toccare. E la dico in modo molto diretto, proprio perché ho assolutamente pochissimo tempo, quello che noi stiamo vedendo nei dati che abbiamo e nei cambiamenti che stiamo vedendo, che nel giro di un periodo probabilmente non molto lungo, la capacità di spesa delle donne sarà maggiore della capacità di spesa degli uomini. Questo diventa un cambiamento epocale nel modo in cui funziona il mercato. Attenzione, non tanto per il fatto che le donne spendono soldi in creme per il corpo e per il mascara. Anche i maschietti stanno incominciando a farlo. Quindi non è quello il punto. Il fatto che le donne spendono, investono i soldi in maniera diversa. Ad esempio, spendono molto di più in sicurezza e in formazione. Non solo per sé, ma anche per figli e nipoti. Quindi è un qualcosa che ha delle caratteristiche abbastanza diverse. E il giorno in cui dovesse arrivare, questo suggerisse dei cambiamenti importanti. Mentre la quasi totalità delle istituzioni e alcune aziende hanno incominciato a riflettere sull'invecchiamento della popolazione, praticamente nessuno ancora ha incominciato a ragionare su questo altro cambiamento che potrebbe essere letteralmente uno tsunami rispetto alle attitudini culturali che abbiamo. E dobbiamo anche aspettarci in questa situazione che ci sia una fascia di maschietti che non avrà le capacità culturali di adeguarsi. Anche questo è un problema che già adesso si vede e per cui si potrebbe anche incominciare a fare qualcosa. Perché ci sarà una fascia di maschietti che semplicemente non ce la farà per proprie attitudini e questo potrebbe comportare un aumento delle violenze sulle donne. Trend più visibile negli Stati Uniti, dico solo un unico dato, già oggi il 40% delle mogli americane guadagna più del rispettivo marito. Oggi, se proiettiamo la cosa su 30 o 40 anni davanti a noi, che chi è nelle università vede che le ragazze studiano tanto di più dei ragazzi e hanno risultati molto maggiori. Sono tutti elementi che ci portano a pensare queste cose. Arriverà anche da noi, probabilmente arriverà con un certo ritardo, probabilmente accentuerà le divisioni del Paese. Fra quella parte del Paese che sarà più culturalmente pronta ad accettare un cambiamento di questo tipo, posso pensare a Milano, posso pensare a Bologna, posso pensare a queste realtà nostre, è una parte del Paese che farà molta ma molta fatica ad accettare un cambiamento di questo tipo e quindi potrebbe essere un ulteriore elemento di divisione. Come va anche detto che probabilmente una parte del mondo non sarà pronta ad accettare un cambiamento di questo tipo e quindi c'è il rischio di vedere una polarizzazione importante e ancora più intensa tra una parte del mondo che svilupperà una capacità di guardare avanti e una parte del mondo che non ce la farà. Bene, chiudo con due osservazioni finali. Noi guardiamo il futuro non perché è bello, non perché è affassinante, non perché è orrido o qualunque altra cosa vogliate metterci, guardiamo il futuro per prendere decisioni. C'è l'ottica sempre andare avanti per poi tornare al presente e usare quello che si vede per prendere decisioni potenzialmente più consapevoli e mature di quelle che avremmo preso se non avessimo fatto questi esercizi. Ultima veramente ultima frase, noi lavoriamo con i tempi lunghi. Io non lavoro un anno, non lavoro due anni, non lavoro tre anni, incomincio a lavorare da vent'anni in su. Perché? So benissimo che molti mi guardano strano quando dicono queste cose. Per due ragioni importanti. Primo, molti cambiamenti quando li vedo sul presente sono tutti troppo piccoli e non capisco quelli che sono importanti da quelli che non li sono. Ho bisogno di guardare lontano per capire quali sono i cambiamenti veramente importanti con cui dovrò fare i conti. Seconda ragione, mi dà tempo, mi permette di provare a far qualcosa, mi permette di provare a farmi trovare pronto. Grazie. Rimanga un attimo perché ho una considerazione e domanda. Il passaggio che ha fatto adesso il professore alla fine, io non devo guardare a vent'anni. Allora la domanda la giro un po' a voi, ma siamo convinti che le char non debba ricominciare a guardare dentro organizzazioni nel lunghissimo periodo. Ovviamente è una domanda retorica la mia, no? Perché siamo convinti che il nostro ruolo, pensiamo allo strategic force planning, pensiamo, abbiamo visto la gestione dei flussi demografici, alcuni di voi stanno su aziende globali. E quindi questo spunto che lei ci ha dato sull'orizzonte temporale io lo trovo eccezionale, perché ci porta a casa un bagaglio di pensiero diverso dal solito. Dobbiamo performare l'oggi ma guardare al domani. Allora che valore ha un char che si siede a un comitato di direzione e fa un ragionamento a vent'anni sulla work force, a vent'anni sui cicli demografici globali che impatto la mia organizzazione, a vent'anni sulla costruzione delle competenze che mi serviranno domani per aprire i nuovi mercati. E che impatto ha se lo stesso char poi si gira indietro e guarda gli ecosistemi sul territorio con cui può fare partnership a vent'anni. Quindi secondo me il suo spunto, mi scuso l'ho lasciata per prenderne il meglio, secondo me è stato assolutamente molto molto importante. Grazie moltissimo di essere stato con noi. Grazie.